Welcome to the world of Puppa Beans, experimenting olive oil! So Mami, che stiamo facendo oggi? La pizzaiola La pizzaiola! Pizzaiola! Why is pizzaiola? Ma che è pizzaiola? La pizzaiola con le melanzane Ohhhh! We're gonna make a pizza without bread! E Mami, e come tu hai inventato questo? How did you invent this? Perché non mi piace mangiare pane, non mi piace mangiare salutabile She doesn't like to eat bread, she wants to eat healthy and boy she... Pomodoro Pomodoro Aglio Garlic Oregano Oregano, wild oregano Olio di oliva Ohhhh! Puppa Beans! Extra virgin olive oil, Mami! Sale That's right! Puppa Beans, sea salt! And then? Pepper Pepper Basilico Basilico Mami, eggplant? E melanzane Ehhhhh Ok, here we are, I'm making the paste for the garlic and I'm using the Papa Beans filler Look, it's so easy, you just go like this and it just makes your paste And then, you know, my mom is cutting the tomatoes She's cutting them in half, you can see And, ohhhh, we can't wait Ok, basilico is cut with the Mami Oh, the basil you have to cut with your hands Why, Mami? Why? Because so you don't lose the smell and the flavor That way it doesn't lose the smell and the flavor And it keeps it fresh And it keeps it fresh Ok, ok, ok Ok Let's put the oregano Ok Wild oregano, that's what we're using here Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Oh, it smells so good Oh, Mami put more Put more And now, che dobbiamo fare Mami? Mettere il sale Oh, Papa Beans! Si, so! Mettelo Mami, mettelo! Ok, ok E dopo ci dobbiamo mettere l'olio We'll then put some oil Papa Beans! Extra virgin olive oil! That's right! And we don't measure, we just... Pour And then we're going to put some pepper. Mami, come le stai tagliando? Prima di tutto si fa così, si tagliano così. Oh, ok. Non si leva tutta la mano. Un po'. We're not going to remove all the peel. Pumpe, she likes to leave a little bit, like that. Si taglia così per lungo. And then she slices the long way. Ok. E sono così grosse, no mami? Si. You see, you see the thickness about that. You don't want it too thick. Ok, mettiamo un po' di olio. Ok. Basta così. Ok, allora ora, accomodiamo le melanzane così. Adesso la lasciamo così. Incominciamo con il pomodoro. Le mettiamo così. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Wow. They look delicious, mami, ma si vedono bellissime. Ma troppo buone, sono. ora lo metto qua nel piatto così così ma mi tagli un pezzo Grazie per la visione